Ciao cari amici, qualche volta nei miei video io affronto la questione demografica in Ucraina perché è molto interessante osservare come questo paese dopo la decisione delle autorità di staccarsi dall'Unione Sovietica, di intraprendere la propria vita indipendente a mio avviso questa parola indipendente, questo termine indipendente deve essere aggiornato per quello che noi vediamo oggi, possiamo dire che nel 1991 l'Ucraina è diventata indipendente dal buonsenso e dalla sana logica, loro hanno preferito di buttarsi nella totale demenzia che oggi noi vediamo dilagare, trasformarsi nel totale degrado, il paese ha perso i propri territori, il paese ha perso dal punto di vista economico, ha perso completamente la propria sovranità, dipende totalmente dalle Stati Uniti d'America, da soldi che ogni tanto vengono stanziati dall'Occidente pur di mantenere questo teatrino degradante ucraino ancora per un mese, ancora per una settimana, ancora per un tot di tempo a gala e ovviamente in situazioni del genere c'è una grande domanda, ma quante persone realmente vivono in Ucraina? Perché noi siamo stati privati da tutte statistiche ufficiali, l'Ucraina stessa ha rifiutato già due volte di svolgere il censimento, questo è stato fatto per la decisione diretta dell'attuale rappresentante del regime ucronazista, il presidente Zelensky, noi questo personaggio chiamiamo Sniffolo per la sua tendenza di Sniffare la polvere bianca di provenienza latina americana, comunque il popolo ucraino chiaramente ha perso molti cittadini e di questo spesso parlano diverse persone, diverse rappresentanti dell'Ucraina, ad esempio tra varie persone che hanno voce nel capitolo e io vorrei citare l'ex consigliere del presidente ucraino Kuchma Soskin che fa ottime analisi su ciò che sta accadendo in Ucraina, lui tra l'altro essendo un politico serio, cioè una persona che ha indifferenza a quei personaggi che ci sono oggi nella politica ucraina e che provengono in gran parte dal mondo della spettacola, questo almeno ha studiato per assumere questo ruolo e almeno sa di cosa parla quando sta toccando le tematiche di demografia, popolo e così via, lui in effetti secondo lui l'Ucraina adesso si trova nel livello più basso demografico di sempre, attorno a 20 milioni dice lui di cittadini e la tendenza è quella a scendere, mentre un altro ex premier ucraino che spesso lascia interessanti approfondimenti anche su Youtube, a Nankov lui dice che l'Ucraina in pratica è scesa addirittura a un livello ancora più basso demografico, lui parla di 15 addirittura barra 12 milioni di abitanti attuali sul territorio dell'Ucraina, ovviamente è una cosa catastrofica, ufficialmente gli ucraini i dati non diffondono, però noi possiamo fare delle alcune analisi basandosi su dati circostanti, ad esempio c'è un dato che è stato condiviso da centro economico e politico ucraino, questo dato parla di 17,4 milioni considerati però segnalati come la popolazione capace di lavorare, cioè in grado di lavorare, questo vuol dire che se calcolare a parte pensionati bambini alla fine dovrebbe essere la popolazione dell'Ucraina attorno a 22-23 milioni e invece ci sono i dati molto interessanti riguardo all'immigrazione e proprio dell'immigrazione volevo parlare oggi, non della migrazione classica di persone che legalmente lasciano il paese, ma di situazioni che si è formata sulle frontiere tra l'Ucraina e altri paesi, la situazione abbastanza critica, per non dire catastrofica, dovuta a una scelta dell'attuale regime ucraino. Sapete in tutti i paesi del mondo di solito le frontiere funzionano in tale modo da poter proteggere il paese dalle minacce esterne. Quindi se noi pensiamo al lavoro della gran parte delle forze di frontiere del mondo, si tratta di un lavoro di difesa del proprio paese, delle frontiere del proprio paese, dalle minacce di forze esterne. L'Ucraina oggi, io penso, sono uno dei pochi paesi al mondo, adesso non mi viene in mente un altro, così, ma forse da qualche parte c'è, uno dei pochi paesi del mondo che impegna tutto il potere, tutte le forze di difesa della frontiera per impedire ai propri cittadini di scappare dal proprio paese. Quindi in Ucraina avviene un processo contrario rispetto a ciò che avviene sulle frontiere dei paesi di tutto il resto del mondo. Invece di difendere il proprio paese dalla minaccia esterna, loro difendono le frontiere dal tentativo di attraversamento dall'interno per impedire ai cittadini ucraini di abbandonare questo paese degradato, questo paese ormai distrutto, devastato dalla guerra, per costringere loro a rimanere nel suo territorio e continuare a essere sequestrati, spediti in prima linea, dove loro in gran parte dei casi muoiono negli interessi del regime oligarchico occidentale e di conseguenza anche negli interessi dei suoi rappresentanti in Ucraina. Questa, cari amici, è una tendenza molto grave. Di questa tendenza parlano anche i dati, parlano i numeri. Voi sapete che in Ucraina, questa primavera, è iniziato ad entrare in vigore la nuova legge, la legge di mobilitazione. Io a questo fatto ho dedicato uno dei video, quindi probabilmente anche più di uno, dove ho parlato di come il Parlamento europeo ha accettato la lettera di Zelensky, nella quale Zelensky ha avvertito ai parlamentari europei che lui sospenderà i diritti civili del suo paese. Appena Zelensky ha ricevuto dall'Europa un permesso di proseguire con questo progetto, appena le europee hanno detto a Zelensky non ti preoccupare, tu nel tuo campo di concentramento sei direttore e puoi fare tutto quello che vuoi. A noi l'unica cosa che importa è che tu mandi avanti questo progetto, questa guerra contro la Russia, che gli ucraini continuano a morire combattendo contro i russi, tu allo stesso tempo devi abbattere le chiese ortodosse, portare avanti i valori della cultura VOC, trasformare l'Ucraina in una vera e propria colonia anglosassone, e noi di conseguenza ti daremo soldi, ti daremo tutto il nostro sostegno e così via. Quindi Zelensky ha fatto questa legge, dopo aver ricevuto benestare dell'Unione europea, ha fatto questa nuova legge per la mobilitazione dei cittadini ucraini nell'esercito ucraino. Di questa legge vi ho già parlato, in pratica nell'esercito prendono chiunque, anche morti, disabili, persone con problemi mentali, persone con tutta una serie di patologie, la gente che ha bisogno di ricevere cure farmacologiche, la gente che ha anche mancanze proprio fisiche, le persone con grave malattie, con malattie infettive, persone che hanno ipatite, persone che hanno tuberculosi, persone che hanno IDS, insomma tutti quelli che possono essere catturati per strada e spediti nelle trincee, vengono catturati e spediti nelle trincee. E noi abbiamo visto anche conferme a questo, numerosi militari ucraini catturati dai russi raccontano che hanno delle patologie, patologie, patologie cardiache, patologie renali, persone che hanno bisogno di cure farmacologiche, persone che si sono trovati in difficoltà in prima linea perché non ricevono nessun tipo di assistenza medica. Comunque per quelli fortunati che sono rimasti, diciamo che sono sopravvissuti durante le battaglie e sono stati catturati dai russi e a loro è andato bene di finire in prigionia e loro hanno raccontato queste testimonianze. Questa nuova legge ovviamente è stata accolta dai cittadini ucraini come una vera e propria minaccia alla propria vita. Immaginate, cari amici, che proprio qualche giorno fa un parlamentare ucraino in diretta televisiva, io adesso non ricordo il cognome ma io ho pubblicato sul mio canale privato Telegram quel pezzo dove lui dice queste cose e ho anche tradotto in italiano per aiutare ai miei abbonati di entrare meglio nella questione. in pratica questo parlamentare raccontava un fatto molto eclatante lui diceva che dal momento in cui il governo ha cambiato la legge sulla mobilitazione e ha imposto queste nuove regole draconiane ai cittadini il costo di acquisto di una liberazione da mobilitazione con la conferma del medico che mobilitato non è abile per servire nell'esercito il costo di questa operazione è salita da 15.000 dollari che era prima a, cari amici, 37.000 dollari lui ha detto che in diverse regioni dell'Ucraina ormai i commissari corrotti militari chiedono questa somma di denaro 37.000 dollari per essere dichiarato non idoneo al servizio militare e ovviamente questo parlamentare dice ecco siamo arrivati a tal punto che le persone pur di andare in guerra pur di partecipare in guerra sono pronte a vendere la casa della nonna la casa dei genitori mettere da parte i soldi lavorare, fare qualsiasi cosa anche prendere il prestito pur di evitare di andare a morire in prima linea e quindi è chiaro che cari amici con l'arrivo di questa legge con l'entrata in vigore di questa legge sono aumentati i casi anche di tentativo di fuga numerose volte ho pubblicato da frontiera ucraina diversi immagini diversi casi di come vengono catturate gruppe di persone anche molto grandi non si tratta solo di 3-4 persone che cercano di attraversare la frontiera 50, 40, 60 persone tutte insieme a bordo dei veicoli specializzati trasformati appositamente per trasporto di persone di nascosto camion con doppi fondi camion con doppi pareti le automobili dove vengono creati le sezioni nascoste dove le persone vengono messe veramente nelle condizioni molto pericolose anche per la salute perché stare chiusi in uno spazio così per parecchio tempo insomma può provocare anche la morte quindi la gente in certo senso vanno verso un rischio senza cari amici calcolare il fatto che i servizi di guardia di frontiera uccidono le persone che attraversano la frontiera che cercano di fuggire io vi ricordo che tempo fa qualche mese fa la televisione rumena ha sollevato una questione molto importante perché le autorità rumene hanno pescato dal fiume che divide la frontiera rumena dalla frontiera ucraina cioè la zona neutrale passa attraverso il fiume è una zona dove si può diciamo scappare attraversare la frontiera e tu non sei più sul territorio ucraino ma non sei ancora sul territorio rumeno questo è il fiume Tibisio e i rumeni hanno ripescato da quel fiume un'enorme quantità dei cadaveri dei cittadini ucraini con segni di morte violenta con segni di ferite da armi da fuoco che dimostravano che le guardie di frontiera ucraina semplicemente quando una persona si lanciava nel fiume e quindi già andava via dal territorio ucraino entrava in questo spazio diciamo neutrale veniva eliminata fisicamente dalle guardie perché li sparavano contro e questo grave fatto è stato sollecitato dai giornalisti rumeni hanno fatto diversi approfondimenti e diciamo le autorità ucraine non hanno risposto in nessun modo a questi solleciti però era chiaro che si tratta di un problema diffuso poi abbiamo visto le mine anti-uomo su alcuni settori di frontiera ad esempio tra Ucraina e Ungheria ci sono stati diversi casi in cui le mine anti-uomo venivano installate da ucraini per impedire i cittadini ucraini di attraversare questi luoghi in Romania di recente c'è stato caso in cui un gruppo di persone mi ricordo 4-6 persone sulla frontiera sono riusciti a assaltare le guardie di frontiera le hanno rubato le arme da fuoco sono arrivati sul territorio della Romania e poi alla fine si sono arrese ai rumeni spiegando che loro sono scappati per sopravvivere hanno dato ai rumeni le armi che hanno preso da delle guardie di frontiera ucraina e hanno chiesto asilo politico queste sono situazioni che capitano cari amici all'interno di un paese che non può essere per nessun modo definito libero democratico che segue i valori europei che ha qualsiasi valore perché quando i cittadini vengono massacrati alle raffiche di pallotole sulla schiena mentre cercano di allontanarsi da questo incubo non si può parlare di nessun tipo di valore perché nessun tipo di valore può giustificare un comportamento del genere questo è il mio è la mia opinione soggettiva io penso così è la mia opinione personale sono spaventose anche i numeri che sono usciti recentemente in pratica dal momento in cui la legge entrata in vigore da quanto è successo questo a mio avviso questa fallimentare decisione questo fallimentare passo di trasformare la legge di mobilitazione ucraina in una vera e propria condanna a morte per cittadini ucraini da questo momento sono fuggiti dal territorio dell'Ucraina 400 mila persone di questo ha parlato il rappresentante altro rappresentante della banca centrale dell'Ucraina loro dicono che 400 mila persone cittadini ucraini hanno lasciato lo spazio dell'Ucraina illegalmente cioè sono usciti senza diciamo permesso e sono fuggiti probabilmente sul territorio dell'Unione europea perché come vi ricordo sul territorio della federazione russa i cittadini ucraini non hanno possibilità di fuggire illegalmente loro per forza o devono attraversare la linea di guerra oppure devono prendere aereo e volare a Mosca con scalo in uno dei paesi in uno dei paesi che fanno connessione e molti ucraini fanno così molti ucraini adesso viaggiano dall'Ucraina arrivano a Mosca lì stanno facendo stanno passando all'aeroporto nelle zone specializzate un controllo perché i russi non fanno adesso entrare chiunque nel paese soprattutto dopo i fatti di terrorismo i russi sono molto attenti a ciò che sta accadendo quindi dal momento di questa entrata in vigore di questa legge 400.000 persone già hanno abbandonato territorio dell'Ucraina in tutto a partire dal 2022 sono andati solo nei paesi dell'Unione Europea circa 7 milioni di persone questi sono dati ufficiali ucraini poi in realtà diverse agenzie e diversi analisti dicono che queste sono le date molto minimizzate così ad esempio l'ONU ufficialmente riconosce che a partire dal 2022 del territorio dell'Ucraina sul territorio dell'Unione Europea sono andate spostate 10 milioni di esseri umani quindi cari amici il numero è abbastanza alto i russi dicono che in tutto dall'inizio del 2022 dell'Ucraina sono usciti 12 milioni di cittadini e poi una parte è andata in Russia una parte è andata nell'Unione Europea per cui qua le statistiche sono abbastanza approssimative e bisogna stare molto attenti perché ovviamente ci sono diversi ipotesi diversi numeri che vengono comunicati da diverse agenzie ma non ci sono non c'è nessuna assicurazione che questi numeri possono essere reali ciò che è chiaro ciò che è reale è che il sistema ucraino ha reso il proprio paese un vero e proprio campo di concentramento dal quale ormai non è possibile fuggire e la cosa impressionante cari amici è che il servizio di frontiera ucraino condivide anche questi filmati io ogni tanto li pubblico dove addirittura si vanta va fiero di catturare e contribuire al massacro dei propri concittadini concittadini che cercano fuggire da un paese devastato dalla guerra che non vogliono fare la guerra che vogliono spostarsi al di fuori di questo sistema degradato vengono comunque catturati e riportati in guerra e di questo i diciamo servizi della guardia di frontiera ucraina vanno fiere fanno dei filmati con musichette si riprendono con cittadini catturati come con le loro prede come si fanno i cacciatori durante il safari quando si fanno fotografare o filmare vicino a un animale ucciso questa io trovo una cosa folle un comportamento veramente ignobile comunque amici come sempre io vi invito di approfondire le notizie che il nostro mainstream non condivide con voi sul mio canale privato telegram di solito io pubblico tutto quello che viene censurato nascosto strumentalizzato dal nostro mainstream corrotto il link per abbonamento al mio canale troverete nella descrizione a questo video se volete seguirmi qua su youtube io vi invito ad iscrivervi al mio canale commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione per le vostre preziosissime opinioni per i vostri commenti per le vostre donazioni tutto questo è molto importante per me per il mio lavoro su queste piattaforma online vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene bene